Ci troviamo presso Cangini Benne, punto di riferimento a livello mondiale nella progettazione e produzione di attrezzature per macchine movimento terra. Uno dei valori principali che contraddistingue questa realtà aziendale è la creazione di progetti in grado di ascoltare le esigenze degli utilizzatori. Tra queste, la sicurezza sul lavoro è una priorità, con l'obiettivo di fornire attrezzature sicure e durevoli nel tempo. La sua mission? Investire pensando alla sicurezza dell'operatore e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per un lavoro sicuro. La sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi in cantiere sono di importanza fondamentale. Utilizzare un prodotto Cangini significa quindi essere certi dell'affidabilità delle sue caratteristiche, attentamente studiate dai tecnici del reparto di ricerca e sviluppo. La sicurezza è uno dei valori fondamentali per Cangini insieme alla qualità. Qualità e sicurezza vengono sviluppati fin dalle fasi di progetto, pensando a quello che sarà l'utilizzo dell'attrezzatura in cantiere e quindi per la sicurezza sul posto di lavoro. La direttiva macchine definisce quelli che sono i requisiti essenziali per una macchina in termini di sicurezza. Noi ci assicuriamo che ogni attrezzatura che viene sviluppata e prodotta rispetti al 100% quelli che sono gli obblighi della direttiva macchina. La certificazione CE è la diretta conseguenza dell'aver rispettato tutti gli obblighi della direttiva macchina. Questa certificazione attesta che l'attrezzatura può lavorare in totale sicurezza ed è oltretutto costruita con standard di qualità elevati. in questo modo il cliente ha la certezza di poter lavorare in sicurezza nel posto di lavoro. Il manuale di uso e manutenzione oltre a essere un obbligo richiesto dalla direttiva macchine è uno strumento fondamentale per l'utilizzatore. All'interno del manuale si trovano numerose informazioni dall'uso corretto di questa attrezzatura fino ai limiti di applicabilità nonché come mantenere questa attrezzatura sempre al massimo dell'efficienza oltre a numerose informazioni sulla sicurezza. Parliamo di prodotti sinonimo di garanzia certificata. Ogni prodotto che esce dalla produzione Cangini viene rilasciato con la targhetta CE che lo identifica e il relativo manuale uso e manutenzione. Solo così il prodotto può infine essere spedito e pronto a lavorare in completa sicurezza nei cantieri di tutto il mondo.